Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Una calorosa buonasera a tutti i nostri ascoltatori Grande preoccupazione per l'emergenza coronavirus ha corato appello del sindaco di Firenze Dario Nardella ai cittadini Se il governo in queste ore dovesse decidere delle misure uniformi su tutto il territorio per limitare ulteriormente le uscite sarebbe una misura corretta accolta con senso di responsabilità C'è ancora un'eccessiva sottovalutazione del problema del contagio del virus ma è come ora l'invito è quello di restare a casa Tornando all'ambito calcistico e al calciomercato tornano a farsi sentire le sirene spagnole per Alban Lafon Il portiere di proprietà della Fiorentina attualmente in prestito al Nantes dopo la buona annata in Francia viene seguito con attenzione dal Real Madrid Per Fiorentina1.com Beatrice Canzedda Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola